Io mi metto sempre in discussione e mi domando ancora ogni giorno, sono all'altezza? Perché non do per scontato, c'è gente che pensa di poter fare il Presidente degli Stati Uniti il giorno dopo. Io mi metto molto in discussione, ho molti dubbi anche sulle scelte che faccio, le difficoltà che ci sono, non penso che esistano verità assolute e quindi uno deve riflettere per fare bene le scelte. Capisco che oggi è di moda la politica arenziana degli 80 euro, la spariamo e non c'è problema, ma ci sono io, è tutto risolto, la politica di Fonzi è ok. Presidente, dicono che abbia il problema delle, dico problema tra virgolette, delle quote rosa, delle donne in giunta? Quello con il cassetto che diceva prima, quale non mi ha pensato che farò, ripeto alla fine, è una donna, per esempio. Ah, ok. Cioè l'idea che non è uscita da nessuna parte, sono convinto che non uscirà mai perché nessuno può pensare che pensa a questa persona. L'idea che aveva prima di diventare Presidente? L'idea che aveva prima di diventare Presidente è l'idea che confermo oggi. È una donna? È una donna che ne parla nessuno, non ne parla nessuno finché non farò il nome, sono convinto perché... È una lighista? È di area. Di area? Sarà Riccardi l'uomo della terza corsia? Beh, sicuramente Riccardo ha un'esperienza enorme per quanto riguarda le grandi abilità che intendo sfruttare. Così ci infila o scocci in mare o sport? Eh, gli ho detto che dobbiamo discutere tutti gli assessori, adesso non ci provi adesso. Non è il secondo lavoro fare l'assessore, o il secondo lavoro fare il consigliere. Magari c'è qualcuno che teneva lo studio aperto lo stesso mentre faceva assessore consigliere. Ecco, quello è inaccettabile. Se uno fa l'assessore, fa il 100% l'assessore. E quindi, visto che i cittadini stanno pagando dei soldi perché uno faccia bene quel lavoro, quei soldi devono essere spesi al massimo e bene. C'è stato un passaggio delle consegne con la Seracchiani, una telefonata? Sì, sì, l'ho sentita. C'è stato anche tramite messaggio, penso, insomma, ci sentiremo anche prossimamente. Devo dire che ha dato massima disponibilità per il passaggio di consegne. Anche perché su alcune partite, chiaramente da un presidente all'altro, insomma, ci sono anche i lavori in corso. Ma poi il presidente della Regione Ferenza Giulia è anche commissario della Terza Consiglia, commissario per la Ferriera. Quindi sono partite delicate su cui dobbiamo confrontarci con chi è stato prima, assolutamente. Grazie a tutti.